frittata di zucchine, gustosa, semplice, super soffice. Ciò che vi servirà saranno tre zucchine da grattugiare in una padella per riscaldare dell'olio d'oliva insieme a uno spicchio d'aglio e versare dentro le zucchine. Poi versare in una ciotola quattro uova, sale, pepe, formaggio grattugiato, latte e un po' di prezzemolo. Nella stessa padella versare una noce di burro insieme al composto, cuocere a fiamma bassa e un coperchio. Quando la superficie si sarà rappresa allora la frittata bisogna girarla e lasciarla cuocere per qualche minuto anche dall'altro lato. E guardate che meraviglia e che colore! Wow!